Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi il sesto episodio della serie dedicata a Garry Kasparov. Siamo sempre nel 1980 a Dortmund e Kasparov sta giocando il campionato mondiale giovanile. Al sesto turno incontrerà lo svedese Ralf Ackerson che poi in futuro diventerà un grande maestro. Partiamo! Garry Kasparov con i pezzi bianchi apre la partita con D4 e Ackerson risponde con cavallo in F6. Arriva C4, E6, Kasparov non è interessato ad entrare nella nincio indiana quindi al posto di cavallo in C3 gioca cavallo in F3 e Ackerson risponde con B6 che è l'indiana di donna. A3 è la seconda mossa più giocata e controlla la casa B4. Questo sistema è chiamato il sistema Petrosian e il nero semplicemente posiziona l'alfiere campo chiaro in fianchetto. Cavallo in C3, la spinta al centro D5, C per D5, ora in questa posizione il nero può riprendere e sono entrambe buone idee sia col cavallo che col pedone. Il nero in questa partita riprenderà con il cavallo che oltretutto è la ripresa più giocata. Per quale motivo? Perché il nero riprendendo col cavallo non vuole chiudere questa importante diagonale principale dove c'è il suo alfiere in fianchetto. Quindi il cavallo riprende in D5, quindi il nero si ritrova con un forte alfieri sulla diagonale principale e invece il bianco con cosa si ritrova? Il bianco si ritrova con un 2 contro 1 al centro. Ora in questa posizione ottenuto un 2 contro 1 che il bianco spererà anche di poter avanzare per fare danni. Ora in questa posizione sarebbe bello giocare subito E4 ma non si può giocare che dopo E4 c'è cavallo per cavallo che gli toglie il difensore e l'alfiere lo cattura e quindi giustamente Kasparov gioca E3. Ora come abbiamo appena detto dopo questa spinta E4 ci sarebbe stato il cambio dei cavalli. Cambio dei cavalli che probabilmente Akerson doveva ugualmente giocare in questa posizione perché cambiando i cavalli si rendeva questo alfiere ancora più forte. Andiamo a vedere questa linea non giocata dal nero. Dopo cavallo cattura in C3 il pedone B ricattura, il nero continua con lo sviluppo con alfiere in D6, alfiere in D3 che è la casa migliore per questo alfiere campo chiaro, arrocco corto per il nero finalmente può arrivare la spinta E4 ma il nero spinge al centro con C5, il nero è tranquillamente in partita e storicamente ha un ottimo score con questa linea. Ritorniamo a noi invece dopo E3 Akerson continua con il suo sviluppo, alfiere in E7 e qui arriva alfiere in B5 con scacco. Si copre lo scacco con C6, l'alfiere sotto attacco torna in D3 e adesso un tranquillo sviluppo del cavallo in D7. Il bianco però può tranquillamente avanzare al centro con E4 che non soltanto si è chiuso la diagonale ma c'è pure l'alfiere. Arriva il cambio dei cavalli, quindi cavallo cattura in C3, il pedone B ricattura e arriva anche la spinta in C5 a liberare questo alfiere campo chiaro. Arrocco corto per il bianco, C per D4, il pedone C ricattura e anche Akerson gioca arrocco corto. Fermiamoci un attimo a valutare la posizione perché comunque Akerson si sta muovendo bene, Kasparov però controlla il centro, ha un vantaggio di spazio e il suo prossimo obiettivo sarà quello di trovare la posizione migliore per l'alfiere campo scuro ancora da sviluppare e per le torri. Con il centro in mano, i pezzi messi al posto giusto e potrà far partire un piano di attacco. Quindi intanto la donna si sposta in E2, torre in C8, questo alfiere campo scuro che poteva anche muoversi in F4, invece Kasparov lo mette in fianchetto a guardare direttamente il castello nero con l'alfiere che è in fianchetto Akerson continua nel suo sviluppo estremamente logico. Donna in C7 non ha paura di torre in C1 perché senza l'alfiere che controlla questa diagonale la donna del nero tranquillamente potrà spostarsi in maniera anche molto attiva in F4. Quindi Kasparov glielo impedisce subito perché gioca donna in E3 e adesso cavallo in F6 è tutto libera, vedete, una casa per la donna. Ora un'altra bella manovra di Kasparov, il salto del cavallo in E5, vedete che non soltanto bello centralizzato il cavallo ma blocca una possibile spinta al centro, il 5 del nero, non soltanto fa questo ma libera anche la donna F, sarà Kasparov a spingere il pedone in F4. Arriva B5, bella mossa perché anche se il pedone sembra in presa, perché naturalmente il contraattacco del nero è qui sul lato di donna dove lui ha il 2 contro 1, il pedone del nero sembra in presa ma il bianco non lo catturerà mai e poi mai perché vincerà un pedone laterale perdendo invece un pedone centrale, quindi bella mossa e Kasparov invece continuerà con il suo piano, spingerà in F4. Donna in B6, stessa diagonale della donna del bianco e del re, quindi Kasparov sposta il re in H1, arriva anche B4. Ora questo pedone va rimosso a tutti i costi perché zitto zitto se fa un altro passo diventa pedone passato, quindi Kasparov lo rimuove, A per B4 e il nero ricattura con l'alfiere. Kasparov mette la torre in B1 che guarda a raggi X questa donna e quindi il nero gioca A5. Donna in E2 previene la possibilità di alfieri in A6 perché questa casa 6 è controllata due volte, quindi non si può mettere alfiere in A6 per cambiare il forte alfiere campo chiaro del bianco, quindi vedete come Kasparov non sottovaluta affatto le possibilità dell'avversario, anzi le analizza e se ci sono delle possibilità pericolose, in questo caso pericolose nel senso che gli toglie forza alla posizione di Kasparov e lui prende subito delle contromisure. A questo punto Akerson porta indietro la donna in A7, quindi in qualche modo schioda cristalfiere perché rimuove la donna dalla pericolosa colonna B e Kasparov continua con F5. Ora è possibile oltretutto per il nero cambiare in F5, il bianco dovrebbe ricatturare di torre, invece Akerson continua con donna in A8, una terza pressione sul centro, in particolar modo sul pedone E4. Mossa 24 per il bianco, siamo a un momento molto importante della partita perché Kasparov giocherà D5. D5 forse l'unica imperfezione della partita, questa imperfezione ho un'idea molto interessante e quindi per quello dico forse un'imperfezione, forse un'imperfezione perché sulla scacchiera c'era una continuazione un po' più forte e sicuramente interessante, ma ci sono tanti rami da calcolare. Guardiamola insieme, ritorniamo indietro di una mossa, in questa posizione interessante F cattura in E6, probabilmente la mossa migliore. La mossa migliore qui bisogna intanto valutare che è interessante andando a capire che per forza il nero deve ricatturare in E6. Andiamo infatti a vedere cosa succede se il nero invece cattura con l'alfiere in E4. Andiamo subito a vedere, dopo l'alfiere cattura in E4, il pedone cattura in F7 con scacco, qui ci sono soltanto due possibilità, o la cattura di torre o il re si sposta. Dopo torre cattura in F7 arriva, al fiere cattura in E4, vedete che il cavallo è praticamente inchiodato sulla torre e quindi qui il nero è già sotto di un pezzo, quindi il nero vince, scusate, il bianco vincerà sicuramente un pezzo. Quindi dopo la cattura in F7 con scacco l'altra possibilità è spostare il re in H8, ma adesso arriva il sacrificio di qualità, torre cattura in F6. Quando il sacrificio torre sul cavallo, che è quello che di solito si verifica, perché il cavallo di solito è in queste posizioni, F6, F3, eccetera, eccetera, ma quando c'è un sacrificio di qualità che spacca l'arrocco, un sacrificio va sicuramente sempre valutato, infatti anche in questo caso spacca l'arrocco. Ora si ritrova, oltretutto toglie il difensore dell'alfiere che si ritrova due volte sotto attacco, quindi per salvare il pezzo bisognerà giocare, alfiere cattura in G2 con scacco, il re semplicemente si sposta e qui bisogna riprendere materiale, quindi G per F6, arriva donna in F2, vedete che se il pedone cattura il cavallo, donna in F6 e scacco matto. Per salvarsi dal matto, che si stava fortemente minacciando, si può riportare indietro l'alfiere in F3, quindi sempre protetto dalla donna che chiude questa colonna F per la donna, ma la donna si sposta in H4, c'è un'altra casa di matto e quindi un attacco fortissimo per il bianco. Tutto questo per dire che interessante questa cattura in F6 perché qui il nero deve per forza ricatturare. Andiamo a vedere che succede perché dopo che il nero ha ricatturato, adesso arriva la spinta D5, anche qui il nero deve catturare per forza perché se il nero non cattura il pedone, il pedone cattura lui in E6 e crea un fortissimo avamposto per il cavallo bianco, quindi attenzione, bisogna catturare anche in D5, adesso salto del cavallo in G4, ci sono tre pezzi che attaccano il cavallo in F6, il cavallo dovrà essere scambiato, ma non in E4 perché non funziona. Andiamo a vedere, dopo cavallo cattura in E4, c'è cavallo in H6 con scacco, se si accetta il pezzo si apre totalmente l'arrocco, si perde la partita, quindi il re si dovrà spostare in H8, cavallo in F7 con scacco, di nuovo due sole possibilità, o si cattura o si sposta il re. Dopo torre cattura in F7, abbiamo la torre che ricattura in F7, attenzione perché l'attacco diventa fortissimo dopo donna in G4, se invece dopo lo scacco di cavallo il re ritorna in G8 è ancora peggio, perché c'è alfiere per cavallo, il pedone riprende il pezzo, donna in G4 con la minaccia di matto, la torre cattura in F7, torre per torre, il re è costretto a ricatturare, ma qui arriva la donna in settima, donna in D7 con scacco, l'alfiere si può interporre, ma c'è lo scacco di torre in F1, il re si sposta, perso pure l'alfiere, si riminaccia matto, e qui c'è già il matto forzato sulla scacchiera. Quindi, ritornando a questo cavallo in G4, abbiamo detto il cavallo deve essere cambiato, bisognerà cambiarlo sul cavallo, dopo cavallo per G4, la donna ricattura, attenzione alla minaccia di matto, attenzione che non si può avanzare se no casca tutto, oltretutto c'è anche il discorso degli attacchi poi di scoperta, quindi torre in C7 per attivare la torre e proteggere la casa G7 è la soluzione migliore, arriva E5 e qui si ferma la nostra analisi, perché vedete, c'è un forte pedone passato, tutti i pezzi attivi che puntano sul re, il pedone può continuare anche ad avanzare con, forse non un vantaggio decisivo, ma sicuramente un buon vantaggio per il bianco, oltretutto con questa pericolosissima diagonale debole, per il nero. Ritorniamo a noi, andiamo però invece a vedere che dopo D5 Kasparov ha un'altra idea in mente, infatti il nero cattura in D5, perché come abbiamo detto se no intanto c'erano due catture e poi si creava questo fortissimo avamposto per il cavallo, e qui il salto del cavallo in G4, se il cavallo cattura spacca la rocco, quindi il nero deve assolutamente cambiare il suo cavallo in G4, la donna ricattura questa idea di Kasparov, la spinta in F6, per indebolire le case scure intorno al re nero, quindi è direttamente A che spinge F6, ora attenzione perché E5 sembra forte, ma il nero è sempre in tempo a mettere, a interporre questo alfiere in C3, che quindi va a cambiare pezzi importanti, va a ridurre la forza dell'attacco di Kasparov, quindi Kasparov ci pensa per 45 minuti e spara il sacrificio su F6, alfiere cattura in F6, si può e si deve catturare ma soltanto di torre, perché il pedone è inchiodato sul re, quindi il nero ricattura con torre e cattura in F6, adesso E5 arriva con tempo perché la torre è sotto attacco, posizione ancora in bilico, ma qui il nero si dovrebbe difendere come un computer, A che toglie la torre per evitare di accelerare ancora i pedoni e invece paradossalmente questa mossa logica è l'errore perché il nero si sarebbe salvato soltanto con torre in F7 e poi continuando a difendere come un computer. Qui arriva F6 che minaccia la cattura di donna e il matto in 1, quindi come abbiamo visto nella variante precedente torre in C7 a proteggere la casa di matto, ma l'altro pedone passato, anzi il pedone passato, l'altro pedone avanzato avanza in E6. Arriva donna in D8 e siamo arrivati, mossa 31 per il bianco al nostro quizzone tattico perché Kasparov adesso sferra il colpo del KO. Mettete quindi pure in pausa se volete e da voi la parola. Ritorniamo a noi perché la soluzione al quizzone che è anche la continuazione giocata da Kasparov è la fortissima E7, vedete che è contemporaneamente un attacco alla donna ma anche un'interferenza, adesso la torre è bloccata dal pedone sulla settima traversa, non difende più la casa di matto in G7 e quindi per salvare la donna ed evitare il matto l'unica mossa possibile è quella giocata da Akerson, torre cattura in E7, quindi torre per E7, si salva la donna, si salva anche il matto ma la torre è perduta, quindi il pedone F cattura la torre in E7, la donna ricattura e adesso arriva torre in B che va in C1 che minaccia bruttissime cose sull'ultima traversa e che qui vedete il re completamente bloccato, torre e donna stanno guardando pericolosamente la casa C8, quindi il nero giustamente torna indietro con la donna in D8 a difendere l'ultima traversa in particolare la casa C8 e Kasparov trova un'altra casa di invasione, donna in F5 che sta naturalmente guardando F7, qui arriva donna in B8 che non risolve nessun problema al nero e Kasparov gioca donna in F7 con scacco, il re è spinto nell'angolo, arriva torre in C7, di nuovo una minaccia di matto in G7 ma anche un doppio attacco sull'alfiere, mossa 36, in questa posizione Akerson abbandona, l'unica mossa infatti, perché qui non funziona neanche se vedete qui non funziona neanche alfiere in F8 perché c'è torre per alfiere, scusa c'è donna per alfiere, la donna ricattura, la torre riprende ed è scacco matto del corridoio, quindi in questa posizione l'unica mossa per salvare il matto è donna in G8 ma adesso cade l'alfiere, il bianco si ritrova con una torre di vantaggio contro due pedoni sì passati ma disconnessi, guardate in che posizione si trova completamente bloccato il nero quindi semplicissima vittoria sul finale per il bianco. Un'altra bella partita di Kasparov che come dite sempre anche voi ha un gioco di pedoni eccezionale, stavolta dopo il sacrificio di alfiere in F6 quei due pedoni centrali come gli artigli di un mostro hanno squarciato la difesa del povero Akerson che otto e tutto non è che fosse l'ultimo degli sprovveduti, ha continuato anche a giocare fino a tarda età, un forte giocatore di torneo. Spero che la partita di oggi vi sia piaciuta, domani abbiamo un altro Kasparov ancora più mostruoso, poi Bobby Fischer e la grandissima Judith Polgar. Non scordate di like al video, non scordate di iscrivervi al canale, ci vediamo domani con una nuova partita. A presto! Grazie! 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 Grazie!